Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente poco seglia quando parla di sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra a sinistra, 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 basta! 141esima puntata di Carta Canta, oggi parliamo di politica, imprenditori. Imprenditori e politica, attraverso un giornale abbiamo scelto il centro, lungo 5 anni, una storia di 5 anni, si parte dal 17 luglio 2010, il centro titola, via libera all'albergo da 100 camere, avrà 100 camere e una sala convegno da 300 posti, scrive il generale della Monica, sono questi i numeri dell'hotel della catena Best Western che aprirà a piano d'accio. Il progetto dell'albergo di livello internazionale è stato approvato giovedì sera in consiglio comunale. Sul punto c'è stata l'astenzione del PD e il voto favorevole del resto di maggioranza e opposizione. L'opera, che comporta un investimento di 14 milioni e mezzo di Euro, rientra nel piano integrato proposto da proprietario dell'area su cui sorgerà la struttura. Gianichiodi ha sempre detto che non è quello che conta il piano regolatore, il PRG, ma sono i piani integrati a cambiare la storia di una città. Qui si cambiava un'area, la si voleva rivalutare, la si voleva modificare. Era pronto, era il luglio del 2010, siamo arrivati al 2015 e ancora non si è fatto nulla. 22 aprile 2015, l'hotel a piano d'accio si farà ma a metà. L'hotel a piano d'accio si farà ma dimezzato, dai 120 posti letto previsti nel progetto di partenza ne rimarranno una cinquantina e anche la sala convegni, che in origine doveva ospitare fino a 300 persone, sarà drasticamente ridimensionata e quel che resta è l'intervento concepito 5 anni fa con un accordo di programma tra comune e il proprietario dell'area interessata, l'imprenditore Carlo Cerino, forse uno degli imprenditori anche più lontani dalla politica, comunque tra i più, non dico disinteressati perché l'imprenditore comunque a quanto pare ha fatto i propri interessi e deve continuare a fare i propri interessi, ma in questo caso Carlo Cerini, al posto di Carlo Cerini ci sarà una SRL, la Green Tourism Abruzzo SRL, con un capitale sociale di 10 mila Euro, ma ne parleremo tra poco. Passa qualche giorno, 5 giorni e il centro titola, va in consiglio il progetto dell'hotel a piano d'accio, si annuncia come una seduta a fiume quella del consiglio comunale, fissato per giovedì 30 aprile, è convocato per approvazione del bilancio consuntivo, all'ordine del giorno figura anche la modifica del piano integrato e del progetto dell'hotel di piano d'accio, che prevede un ridimensionamento della struttura recettiva in termini di volumi e il via libera alla costruzione di uno spazio commerciale adiacente. Il PRG, la variante, il piano integrato, la variante al piano integrato, siamo arrivati a avere un piccolo hotel con un grande spazio commerciale, vicino a una struttura come il centro commerciale, dove sono i negozi che chiudono. Che cosa nascerà nello spazio commerciale? Come mai il Partito Democratico continua ad astenersi? Ci sono due informazioni, allora l'Abruzzo Turismo SRL è di Emilio Schirato, l'imprenditore, ha un capitale sociale di 10.000 euro, ha una sede a Pescara e ha una sede a Piano d'accio. Lì nascerà molto probabilmente un negozio di articoli sportivi e una sala bingo. Chi ha fatto la tombola? Carta camp.